Nuovo corso, stessa storia per il Bitonto. La promozione di Modesto da primo allenatore al posto dell'esonerato Santoruvo non ha suscitato gli effetti sperati nello scontro diretto di Rotonda. I Lucani giocano un secondo tempo semplicemente strabiliante, vincono 3-0 e conquistano una fetta di salvezza che ad oggi sarebbe più che meritata. Il primo obiettivo di Modesto è rianimare il peggiore attacco del campionato, Figliolia e Lariete, Palazzo e Chacon pronti a galleggiare dalle sue spalle, fuori De Michele tra le poche noteliete dell'ultimo periodo. Tiene tutti sul pezzo Peppe Pagana, sulla tre quarti c'è Cardore per Mirante, rispetto all'undici di Barletta, in campo anche Bran e Calegari, autore del colpo del pari al Puttilli. Bran, schierato largo a destra, crossa per Fernandes, che manca lo stop da posizione più che invitante, il primo squillo del bitonto è da piazzato, Zugaro ci prova su posizione, Masako è attento sul secondo palo, grossa occasione rotonda al sedicesimo, Calegari, pescato, tutto solo sul secondo palo, pecca di altruismo cercando la soluzione per un compagno, anziché la battuta in porta. Supersonica, combinazione Cagliazzo-Bran a destra, il primo mette in moto il secondo col tacco volante, ma la battuta del romeno è respinta da Diamè, chance bitonto al ventitresimo, Palazzo si inserisce nello spazio, raccoglie dalle retrovie e calcia al volo, cogliendo il palo a sacco più che battuto. Palazzo in versione assistman al trentatresimo, va rimorchio per Canamea, ma il destro dell'ex Molfetta è troppo strozzato. Il primo tempo si conclude ancora con Alex Brand protagonista, altra combinazione con Cagliazzo, destro a giro bello ma fuori misura. La partita si decide sostanzialmente nella dipresa anche a causa dei pasticci ospiti. Dal flipper in area bitonto emerge Fernandez, tiro innocuo, Diamè se la fa passare sotto le gambe, Fusco è lì e anticipa il portiere, realizzando il gol più semplice della sua carriera. È l'inizio della fine per gli uomini di Modesto. Cardone fa le prove generali del 2-0, ma questa volta Diamè non abbassa ulteriormente il voto in pagella. Non fa sicuramente meglio tutto il reparto arretrato del bitonto. Al sessantatresimo Cardone attiva Fernandez, palla a Callegari e 2-0, facile facile. Il difensore ci ha preso gusto dopo il gol decisivo a Barletta, ma qui maglie davvero troppo larche nella difesa neroverde. Questa punizione di Obodo è l'unica intrusione delle parti di Sako nei secondi 45 minuti. Nel recupero i nuo entrati Jankovic e Bamba chiudono la pratica. Il croato scappa a destra e pennella sulla testa del 19enne Ivoriano. Il pallone del 3-0. Gioco, partita e incontro. Il rotonda in un colpo solo scavalca Fasano e Manfredonia, piazzandosi al decimo posto a più 5 sul Gallipoli e sulla zona play-out. Bitonto, penultimo, è tenuto in vita da una classifica cortissima. Per agguantare l'ultima ancora di salvataggio distante tre punti, servirà una prestazione distante a Ninuce da quella mostrata sul prato del Disanzo. Nel prossimo turno, per il rotonda, c'è il derby Lucano Amatera. Per il Bitonto, sfida interna contro la Gelbison. Per il Bitonto, sfida interna contro la Gelbison.